e io lo so già che mi direte ma dentro sarà tutta plastica sicuramente non vale niente ecco perché secondo me dovete lasciarlo sullo scaffale oggi mettiamo a confronto 9 morsetti rapidi ad un certo punto ho dovuto fermarmi non è che potevo continuare a comprare morsetti per fare questo video ho fatto alcune scelte ne confronteremo 9 ma vi racconto tutto dopo la sigla come vi dicevo un po di tempo fa ho iniziato a ordinare vari morsetti di vari brand in vista di questo video ma mi sono presto reso conto che era un'opera titanica quindi mi sono fermato e ho deciso di guardare insieme a voi quelli che avevo raccolto sino ad adesso che sono comunque tantissimi ma divisi in due famiglie per quello che mi riguarda questi sono leggermente più piccoli sono quelli probabilmente di uso più comune mentre questi tre sono dedicati a lavorazioni un po più gravose partiamo quindi dai piccolini diamo un'occhiata ovviamente al rapporto qualità prezzo ai materiali alle caratteristiche che uno o l'altro possono avere e poi vi dirò anche qual è il mio preferito allora piccolissima premessa iniziale morsetti ad una mano perché perché si riesce appunto a lavorare semplicemente con una mano sia stringere che rilasciare la presa quindi molto molto comodi e usatissimi in tutti i laboratori questo tipo di morsetti sono all'ordine del giorno in qualsiasi laboratorio esattamente di questa dimensione perché vanno bene un po per tutto hanno una forza di serraggio come vedremo discreta si riescono a utilizzare bene sia su cose piccole che su incollaggi un po più grandi per cui questi se ne ha sempre una marea in laboratorio per questo motivo oggi ne vedremo ben 6 con questo e visto che lo abbiamo qua partiamo proprio da questo allora questo è un bese nello specifico le z m 30 barra 6 ci interessa poco in questo confronto se l'apertura è di più o di meno dei suoi concorrenti vogliamo vedere effettivamente il morsetto che qualità e quali caratteristiche in questo caso ha una pressione dichiarata di 75 kg e devo dire che dalle prove che ho fatto è assolutamente rispettata e il costo è intorno ai 19 euro il sistema di bloccaggio e sbloccaggio di questi morsetti per quello che riguarda la chiusura è praticamente sempre lo stesso quindi si va a premere una delle due leve in questo caso quella superiore e vi devo dire la verità risulta comunque comoda lo sgancio invece bestie l'ha pensato con questa levetta per cui una volta bloccato il pezzo noi possiamo semplicemente premere qui ed ecco che lo abbiamo sganciato inoltre tenendolo premuto possiamo muovere la parte mobile del morsetto dove vogliamo molto liberamente la costruzione è in plastica molto molto solida tranne ovviamente la barra di metallo e all'interno si intravedono delle barrette di metallo anche lì per quello che riguarda il meccanismo ma arriviamo anche a quello state buoni seguite il video che caratteristiche ha questo tipo di morsetto beh il fatto che così lavora in compressione ma basta premere questo bottone e togliere la testa per farlo diventare un morsetto ad espansione infatti sempre premendo il bottone si va a inserire la testa dall'altra parte si blocca e a questo punto abbiamo un morsetto che ovviamente allarga i pezzi invece che tenerli uniti le plastiche come vi dicevo secondo me sono fra le migliori quella dell'impugnatura è decisamente una delle più comode è una plastica morbida mentre invece quelle a protezione del pezzo sono leggermente più dure mai avuto un problema con questo tipo di morsetto lo utilizzo già da tanti anni però come dicevo adesso diamo un'occhiata a tutte le caratteristiche e la fattura i giudizi li passiamo ad un morsetto davvero economico ragazzi questo è della Irving e costa se non erro 15 euro la coppia vuol dire che questo morsetto costa sostanzialmente 7 euro e mezzo come dimensioni siamo leggermente al di sotto di quelle viste prima i materiali di questo morsetto sono allora plastica per tutta la scocca metallo per la meccanica e la barra e gomma qua per le ganasce in verità la gomma per le ganasce in questo caso è un po più morbida mentre la plastica che va a formare l'impugnatura devo dirvi la verità questa è un po sottile per capirci se faccio così la piego non è il massimo della vita però stiamo parlando anche di un oggetto decisamente più economico a differenza di quello di prima in cui sulle ganasce c'erano degli incavi per permetterci di fermare pezzi attraverso lo stop dello spigolo penso ad esempio a una cornice ma per capirci noi un pezzo possiamo bloccarlo anche così come dicevo rispetto al best che abbiamo visto prima qui non ci sono scanalature è tutto completamente liscio la forza di serraggio dichiarata è di 63 kg ed è assolutamente rispettata è un po meno anche perché comunque ve l'ho detto la dimensione è leggermente più piccola di quello di prima mentre il sistema di sgancio è diverso invece che avere un pulsante qua in mezzo quando vogliamo sganciare dobbiamo abbassare questa leva in metallo direi che vi ho detto tutto passiamo al prossimo molto molto simile come fattura la grandezza più o meno si avvicina però ha qualche diversità parliamo del work pro questo morsetto viene venduto in coppia a 25 euro quindi ogni morsetto costa più o meno 13 euro non è così diverso da quello di prima perlomeno la parte della maniglia in plastica anche questa è praticamente identica e vedete che anche qui sforzando un po si piega è leggermente migliore se vi devo dire la verità si intravedono qua le barre di metallo interne del meccanismo e qui la leva è sostanzialmente identica a quella di prima se non che hanno messo un pezzettino di gomma è un'accortezza che per carità ci sta barra in metallo e ganache in gomma non ha scanalature nemmeno questa però come vedete è un po' più generosa rispetto a quella di prima è diciamo il doppio quindi ci permette di avere una presa un po' più ampia l'irwin di prima non lo aveva il work pro si per cui si può andare a togliere la testa come abbiamo visto per il bassi ed ecco che diventa un morsetto ad espansione morsetto dichiarato per 68 chili di forza di serraggio che rispetta e passiamo al nostro verdone o meglio il world craft pro 150 questo è un morsetto che se lo cercate lo trovate anche come morsetto da banco e vedremo tra pochissimo perché la costruzione di questi oggetti è rinomata è assolutamente sopra la media ad esempio la gomma che trovate qui secondo me è una delle migliori fra tutti i morsetti che vedremo c'è un incavo non ce ne sono altri quindi in questo caso possiamo andare a fermare il nostro pezzo soltanto in questo verso il sistema di chiusura è fatto come gli altri quindi si preme e si va a chiudere quello che è diverso è la molla di rilascio mentre negli altri è proprio una molla che va a rilasciare completamente la parte mobile e se tenuta premuta si può muovere questo fa la stessa cosa in questo però è in verità una leva per cui noi premendola riusciamo ad avere il movimento contrario passo per passo che abbiamo in chiusura i materiali visto che abbiamo già visto la gomma delle ganasce è come per gli altri plastica dura nelle parti statiche metallo e barretta di metallo interna anche questo morsetto prevede la pressione di un pulsante per andare a spostare la testa dalla parte opposta quello che vi dicevo e cioè che è indicato anche come morsetto da banco è perché ha una particolarità se noi andiamo infatti a togliere la testa insieme a questo morsetto vi viene data questa parte che cos'è è una parte composta da due pezzettini di plastica che vanno inseriti prima uno l'altro e poi va fissato con un dado a brugola a questo punto otteniamo questo oggetto che a cosa serve serve per andare a lavorare sui banchi con fori da 20 mm infatti diventa esattamente un pressore a banco questa è una cosa che se non erro ha soltanto lui ultimo dato la forza di serraggio viene data per 90 kg che confermo e anzi sono andato anche leggermente oltre abbiamo ancora due concorrenti il primo ce n'è una versione appena uscita o comunque uscita nuova parlo dello stanley fat max quindi prendiamo in esame questo ma con il beneficio del dubbio che stanley lo abbia aggiornato con una versione più recente fatto sta che la costruzione è simile agli altri quindi barra in metallo all'interno vedo le barrette in metallo sgancio anche questo in metallo tutto il resto come abbiamo detto plastica e ganasce un po più rigide ma qui abbiamo l'inserto a croce quindi possiamo fermare in un verso o nell'altro il nostro angolo il sistema di chiusura è similare a tutti gli altri ovviamente la maniglia ricalca un po' quelli che abbiamo già visto quindi c'è poca plastica in questa posizione se inadvertitamente andiamo ad usarlo in un modo non consono potrebbe anche rompersi mentre per quanto riguarda il fatto che possa diventare un morsetto ad espansione lo può fare ma andando a svitare la vite quindi decisamente più scomodo degli altri e andando ad avvitare la testa dall'altra parte quello che vi dicevo cioè il fatto che ne esiste una versione aggiornata se non erro hanno fatto proprio questa modifica quindi qui c'è un pulsante quindi con il beneficio del dubbio però al momento giudichiamo questi che sono ancora in vendita questo morsetto infatti viene venduto a 17 euro e viene dato per 60 chili di forza di chiusura che si raggiunge ma ovviamente sforzando un po sulla maniglia come del resto per gli altri arrivare al limite non è sempre una bella idea ultimo concorrente jorgensen questo è le z hold come vedete molto molto simile agli altri forse leggermente più corto ma niente di che allora barra in metallo all'interno si intravedono le barrette di metallo per il meccanismo tutto il resto come per gli altri è plastica e la gomma qui non è fra le più morbide e non ha nessun intaglio per andare a fermare perfettamente gli angoli come per gran parte degli altri che abbiamo visto c'è un sistema a pressione per cui si va a sganciare la testa e si può andare a inserire dall'altra parte e diventa il nostro morsetto a espansione il morsetto viene dato per una forza di serraggio di 68 chili che rispetta ma la cosa particolare è che viene venduto in pacchi da quattro pezzi pacco che costa intorno ai 42 euro quindi indicativamente siamo intorno ai 10 euro a morsetto perché viene venduto in pacchi da quattro ma teoricamente potrebbe essere venduto anche in pacchi da due vado a prenderne un altro per farvi vedere perché l'apertura di questo morsetto è limitata se non sbaglio a un centinaio di millimetri forse qualcosa meno ma sulla testa ha un disegno particolare se andiamo a rimuovere la testa ma invece che andarla a mettere dall'altro lato semplicemente la giriamo su se stessa e andiamo a ribloccarla stessa cosa facciamo sull'altro morsetto vedremo che qui in testa c'è proprio un disegno molto particolare una specie di coda di rondine per cui i due morsetti vanno a incastrarsi uno sull'altro andando a creare a questo punto un morsetto che ha il doppio della capacità di serraggio ovviamente si può lavorare da entrambi i lati secondo me è una buonissima idea per non avere morsetti magari lunghissimi in laboratorio o se vi serve un morsetto un po più lungo del normale ma non volete comprarne uno appositamente allora i piccolini li abbiamo visti tutti sono morsetti che come vi dicevo in laboratorio non mancano mai anzi se se ne ha di più meglio da questo punto di vista l'irving che è il più economico sicuramente ci strizza l'occhio però non si può neanche riempirsi il laboratorio di oggetti che indubbiamente hanno una qualità minore qualche morsetto buono comunque dovremo averlo questo è molto comodo perché viene venduto appunto in coppia e con 15 euro viene portata casa 2 è per lavori medio piccoli però fa il suo lavoro sicuramente non potrete chiedergli la luna stanley e work pro sono più o meno sulla stessa linea uno ha un pezzettino di gomma in più l'altro la scanalatura quell'altro non ce l'ha ma insomma grandi diversità su due oggetti di questo tipo non le vedo al terzo posto vado a mettere lo jorgensen che è una lieta sorpresa vi devo dire la verità è compatto ma con l'opportunità di allungarsi e arrivare al doppio del serraggio secondo me è davvero un morsetto da prendere in considerazione certo non ve lo regalano perché due morsetti di questi se non sbaglio non c'è il kit c'è il kit da quattro e quindi vi toccherebbe spendere una quarantina di euro però sono quattro morsetti veramente molto belli se è questa la dimensione che cercate ovviamente come morsetto in sé però secondo me un terzo posto se lo merita tutto il secondo posto va al wallcraft e ovviamente di conseguenza al primo posto se lo becca il besey e ora vi racconto perché il secondo posto è per il wallcraft semplicemente per un discorso di dimensioni è per quanto mi riguarda molto molto ingombrante essendo questi morsetti molto rapidi e che probabilmente vanno a lavorare devono andare a lavorare su oggetti che stiamo serrando avere tutta questa parte che per carità fa il suo mestiere perché tiene insieme il morsetto e ti dà un senso di stabilità veramente molto alto oltretutto c'è l'opportunità di muoversi in basso insomma ha un sacco di caratteristiche veramente ottime non ultimo al fatto che si può usare come blocco sul tavolo da lavoro c'è da dire che per usarlo in quel verso dobbiamo smontarlo completamente e come vi dicevo la dimensione anche da chiuso è un po più grande si vede ok anche un bel po più grande rispetto al besey quindi per me il wallcraft in questo caso va al secondo posto il besey invece è al primo posto nonostante abbia la stessa conformazione lo stesso utilizzo rispetto a quelli che abbiamo visto in ultima posizione e anche lo jorgensen che in diversa praticamente funziona allo stesso modo semplicemente perché effettivamente è la forma e la dimensione che io ricerco in un morsetto rapido di quelli che utilizzi tutti i giorni è compatto ma a diversità degli altri la scelta dei materiali è nettamente migliore quindi alla fine si casca un po lì secondo me l'idea avuta da besey di farlo così compatto è ottima magari è stata seguita anche da altre case questo non lo so fatto sta che qui i materiali sono migliori e si sentono quindi per quello che riguarda le dimensioni di questo tipo di morsetto e l'utilizzo di questi morsetti rapidi per me besey è ancora il campione e passiamo al secondo confronto quello con morsetti un po più grandi perché li ho voluti separare non tanto per le dimensioni perché come vi ho detto anche gli altri erano un po più lunghi un po più corti leggermente più piccoli questi sono più grandi e hanno una destinazione diversa a mio avviso mentre quelli servono un po per tutto e secondo me è utile averne in laboratorio questi strizzano molto più l'occhio secondo me agli incollaggi ad esempio vuoi per le dimensioni vuoi anche per la forza di serraggio che in tutti e tre vi dico già rimane intorno ai 120 chili comunque lo vedremo partiamo come prima dal besey che non cambia assolutamente la struttura del suo morsetto quindi anche qui abbiamo plastica nelle parti in cui serve la plastica le ganasce hanno sempre questa plastica un po dura e non hanno assolutamente nessun incavo il meccanismo interno si intravede essere di metallo come la barra e la testa si può ancora spostare per diventare un morsetto a l'espansione come si fa si va a girare questa rotella quasi di 360 gradi si va a togliere la testa e si va a inserire da questo lato la forza di chiusura se non erro è intorno come vi dicevo ai 120 chili e viene rispettata anche se vi ripeto non è l'ideale portare al limite un morsetto se vi serve una forza di pressione di 120 chili prendete un morsetto che ne chiuda a 200 non prendete uno che chiude a 120 questo è un consiglio in linea generale questo morsetto costa intorno alla trentina di euro vi faccio notare sin da subito che le ganasce rispetto anche a quelli che vedremo fra poco sono un po più strette la spiegazione che mi do è che Bessay è uno di quei brand che ha veramente un catalogo infinito ed ha dedicato gran parte dei suoi prodotti per quello che riguarda i morsetti al serraggio all'incollaggio utilizzando un altro sistema quindi probabilmente questo è stato pensato per un utilizzo anche diverso rispetto agli incollaggi credo che sia questa la motivazione wallcraft questa è la versione pro come vedete invece questo è stato proprio pensato secondo me per gli incollaggi anche perché riconosciamo qui ai lati questi qua cosa sono servono per appoggiare il pezzo nel momento in cui si va a fare un incollaggio quindi si riesce a mantenere il pezzo senza che si imbarchi sostanzialmente i materiali sono gli stessi del più piccolo che abbiamo visto anche qui c'è la possibilità con un bel pulsantone di andare a girare la testa e metterla dall'altra parte qui come vi dicevo invece ci sono delle ganasce veramente importanti e questo aiuta sicuramente nel momento in cui si debba andare ad incollare qualcosa perché la superficie è maggiore anche questo wallcraft come il bassi costa intorno alla trentina di euro in questa versione anche se è leggermente più lungo ecco non è una cosa da scartare qui parliamo di molti più millimetri rispetto al bassi però però il prezzo più o meno è quello e la forza di serraggio è similare anche questa si aggira intorno ai 120 chili che è assolutamente rispettata e veniamo all'outsider perché lo so che aspettavate questo eccolo qua il nostro parkside che ragazzi ora ve li metto un attimo vicini allora praticamente sembra un bassi ma con le ganasce del wallcraft c'è un vantaggio a non arrivare primi alle cose è che si possono studiare i competitor e gli avversari per riuscire a trarre poi il meglio da ognuno e magari portare a casa un buon risultato io non so se è andata così in questo caso però diciamo che se uno più uno va due ma andiamo con ordine diamo un'occhiata al parkside per quello che è allora sistema di chiusura buono e rilascio a pressione quindi non ha il controllo come wallcraft ma ha il rilascio esattamente come il bassi solo che il bassi lo ha nella parte bassa mentre invece questo lo ha nella parte alta spostamento della testa per lavorare in espansione possibile tramite questa molletta che si rilascia si toglie la testa si va a mettere dall'altra parte e si va a rifissare qui abbiamo i distanziatori come abbiamo visto nel wallcraft e come vi dicevo abbiamo delle ganasce molto molto generose in gomma morbida la forza di serraggio non è indicata ma io non sono riuscito ad andare oltre ai 100 chili al limite potrebbe essere anche colpa mia e attenzione attenzione il prezzo so che lo sapete ma ve lo dico è di 13 euro la coppia quindi praticamente questo costa tanto come l'irving che abbiamo visto prima quindi 7 euro e mezzo 7 euro e mezzo e io lo so già che mi direte ma 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 dentro sarà tutta plastica sicuramente non vale niente ecco perché secondo me dovete lasciarlo sullo scaffale e allora sapete cosa ho fatto li ho aperti allora siamo arrivati all'autopsia del morsetto cominciamo dal wallcraft allora abbiamo come vi dicevo due barrette in metallo che sono sostanzialmente la parte in cui va a sbattere la maniglia e poi una piccola molletta laterale in verità sono due molle laterali che compiono il lavoro inverso fatto dalla molla di rilascio gialla qua c'è un bel mollone grande e tutto si esaurisce qui quindi tutto quello che è plastica va imbattuta sostanzialmente alle parti in metallo andiamo a dare un'occhiata al besei anche il besei si apre abbastanza bene però è tutto ad incastro qui abbiamo sei parti in metallo con due molle separate molto molto grandi e il rilascio va semplicemente ad agire su una di loro sganciandole e liberando la parte mobile però ragazzi lo so che aspettavate questo apriamo il parkside accidenti è identico allora qui sotto ci sono tre barrete di metallo esattamente come lì insomma il meccanismo è semplicemente girato perché nel besei vado a muovere la parte sopra nel parkside la parte sotto e infatti lo sgancio uno è sopra e l'altro è sotto tre barre di metallo tre barre di metallo due molle giganti due molle giganti quindi alla fine dei conti c'è proprio una similitudine che non può passare inosservata fra questi due tipi di morsetti io vi dico la verità credevo di trovare dell'altro qua dentro ok un po più di plastica mettiamola così allora lasciando perdere le guerre intestine fra i vari brand vi dico la verità che se io avessi questi tre morsetti a disposizione userei probabilmente questo per andare a stringere un mio lavoro in questo caso wallcraft anche se questa parte rimane sempre più grande rispetto agli altri morsetti diciamo che non mi interessa in quel caso perché sto andando a stringere qualcosa che dovrà rimanere lì per un bel po deve fare il suo lavoro mi piace moltissimo mi permette di lavorare in comodità e ho una bella stretta con due belle ganasce grandi quindi sicuramente è un'ottima scelta e di qualità parliamo come sempre di materiali mentre invece al secondo posto non posso che mettere il parkside questo per due motivi prima di tutto perché comunque guardare cosa fanno i competitor sempre che sia andata così e poi creare qualcosa un po migliore per lo meno questo credo che sia l'intento perché sembra veramente l'unione dei due morsetti che abbiamo visto oltretutto ad un prezzo veramente scandaloso secondo me questo è un morsetto da avere punto e basta il secondo motivo invece è perché a mio avviso questo morsetto probabilmente è un surplus nei nostri laboratori perché bessei ha delle cose che fanno veramente gola e inarrivabili per andare a stringere pezzi anche in piano che assolutamente secondo me sono superiori punto quindi penso ad esempio ai vari cri che posseggo o cre che si dica in quel caso per me non hanno rivali questo è un morsetto probabilmente che sarebbe stato anche bene con i primi che abbiamo visto semplicemente è un po più grande ma forse è stato scorretto da parte mia metterlo a confronto con questi due bene io mi sono divertito veramente tanto a metterli a confronto anche perché alcuni non li avevo mai visti parlo ad esempio del fat max non l'avevo mai visto l'irving lo avevo avuto e lo jorgensen ne avevo visto degli altri tipi ma non questo con il sistema qua in testa per cui devo dire la verità ad esempio anche parkside è stata comunque una sorpresa perché quelli che avevo fatti in questo modo erano veramente pessimi mentre invece questo si difende benissimo per cui insomma ci sono tante informazioni tanti prezzi tanti dati valutate voi qual è il morsetto che fa per voi basta che li abbiate perché un laboratorio senza morsetti ma che laboratorio è ma che laboratorio è